I comuni, sotto i mille abitanti in provincia di Teramo, diventano covid-free. L'ASL ha varato un programma per vaccinare la popolazione dei piccoli centri, si inizia con Castelcastagna. Il programma coinvolge i comuni della montagna e le operazioni dovrebbero concludersi nel giro di una settimana. Vaccinazione a tappeto dunque a Pietracamela, Fano Adriano, Castelcastagna, Rocca Santa Maria, Cortino, Arsita, Valle Castellana, Montefino, Castelli e Crognaleto. Parte della popolazione di questi centri è già immunizzata, precisa l'ASL di Teramo, facendo riferimento agli ultraottantenni e ai fragili. L'obiettivo ora è vaccinare il resto degli abitanti. Per queste operazioni l'ASL Teramana ha deciso di procedere in autonomia con unità mobili, rinunciando alle squadre dell'esercito e dei carabinieri a favore dell'ASL dell'Aquila. Attribuiamo molta importanza a questa parte della campagna vaccinale, ha dichiarato il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, recarsi nei piccoli comuni significa aiutare le zone dell'entroterra Teramano, supportandole anche dal punto di vista turistico, visto che l'obiettivo è rendere questo territorio sicuro, cioè Covid-free. Intanto boom di vaccinazioni nel lab dell'Università di Teramo, dove nel weekend sono stati somministrati 2000 vaccini ai maturandi della provincia. Ed è già iniziato il primo Open Day per gli studenti universitari iscritti all'Unite. L'Università ha aperto una propria piattaforma a cui si sono già iscritti circa 1600 studenti. Gli altri due Open Day sono stati programmati per venerdì 18 e giovedì 24 giugno. In ciascuna delle prime due giornate saranno vaccinati circa 800 giovani, nella terza eventuali altri iscritti.